La scuola è finita, è tempo di andare a mare con i nostri amici, con le nostre famiglie, con i nostri animali. Adesso abbiamo tante spiagge che possiamo utilizzare, però le spiagge le dobbiamo tenere pulite, così come dobbiamo tenere pulito il mare. È una fonte di ricchezza e di benessere. Teniamoci lo stretto.